Sono tre gli indagati per la morte di Antonio Di Lollo, il 46enne titolare di un'impresa di tinteggiatura, rimasto folgorato lo scorso 31 agosto mentre lavorava su un capannone di un'azienda di confetture sulla Statale 17 a Castel di Sangro. Si tratta del proprietario del cantiere nonché amministratore delegato della società di confetture e di due figure legate al nolleggio del cestello elevatore che l'operaio avrebbe utilizzato per tinteggiare la facciata del capannone. I tre sono stati scritti sull'apposito registro della Procura della Repubblica di Sulmona che indaga per omicidio colposo e per le presunte violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Quello della Procura è sostanzialmente un atto dovuto ai fini dell'accertamento irripetibile dell'atopsia che sarà svolta nelle prossime ore dall'anatomo patologo Ildo Polidoro, incaricato da sostituto procuratore Edoardo Mariotti. La Procura ha disposto in verità una doppia perizia, l'esame otoptico per chiarire le cause del decesso dell'operaio, un'altra sui mezzi utilizzati e sullo stato dei luoghi per verificare eventuali anomalie o regolarità sul piano della sicurezza. Da quanto si è appreso Di Lollo, titolare di un'impresa di tinteggiatura, mentre stava lavorando sulla facciata del capannone, avrebbe urtato con il cestello elevatore i cavi dell'alta tensione, collocati a distanza ravvicinata, come emerso nei primi accertamenti. Non sono escusi i sviluppi investigativi a riguardo. Nel frattempo i carabinieri hanno sequestrato la porzione di cantiere dove è avvenuto il tragico episodio e hanno acquisito l'intera documentazione. Verifiche sono in corso anche da parte degli ispettori della ASL e del competente servizio che erano intervenuti unitamente ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio, sta di fatto che l'Abruzzo è una delle regioni dove si registra un elevato numero di incidenti sul lavoro, una scia che sembra interminabile.